Vi aspettiamo per uno straordinario evento d'eccellenza, con tutte le stelle muse ispiratrici indiscusse della grande musica italiana. Mi ritorna in mente, itinerando sul mondo. L'evento si terra giovedì pomeriggio 11 febbraio 2016 direttamente dal teatro del Casinò di Sanremo, con le emozioni dal vivo dei big degli anni 60, 70 e 80 e tantissimi ospiti. L'evento è organizzato da Francesco Lacalamita dell'associazione Itinerando, Flower Terry Production, e la grande orchestra per sognare di Fausto Tenka, in collaborazione con note radio e tv direttamente presenti in sala, per un evento davvero numero uno.